Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella al caffè cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la torta, burro morbido, zucchero, uova, sale, panna fresca, caffè espresso freddo amaro, farina di mandorle, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, amaretto di saronno e bicarbonato. Per la glassa, cioccolato fondente, burro, panna fresca e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero ed il burro. Ed azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 4. Azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 3 e dal foro del coperchio inserire una alla volta le uova, la panna, il caffè e l'amaretto di saronno. Aggiungere la farina, la farina di mandorle, il lievito, il bicarbonato e il sale. Ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5. trasferire il composto in uno stampa a ciambella da 24 cm ben imburrato. cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50-60 minuti circa. Fare sempre la prova stecchino. la torta è cotta, lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. nel frattempo preparare la glassa. Mettere nel boccale il cioccolato e tritare per 10 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la panna e lo zucchero a velo. Ed azionare il bimbi per 5 minuti a 50 gradi a velocità 3. La glassa è pronta. Versare sulla torta e decorare con le scagliette di cioccolato. ciambella, caffè e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!